Dai 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 forza Oh adesso eh Giovani Dai 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 Anche oggi eh Aspetta Giovani aspetta Aspetta un po' Aspetta un po' Vieni Mirko Vieni vieni Questa è l'ultima di Mirko E quindi la dedichiamo a Mirko Va bene Anche oggi ci abbiamo messo cuore Ce ne dobbiamo continuare a mettere Forza bravi ragazzi Grazie ragazzi imm Guardiamo 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 Guardiam Grazie a tutti! Grazie a tutti!